continuiamo la nuova di scuola io, padre, che? i broni, i broni ok non li perdiamo ok, ok signori, a 2 centra numero 7 grazie grazie ciao a tutti grazie a venire di essere qua io direi di iniziare che siete tantissimi iniziamo prima con le persone valide davanti e poi mi metto più a sfumare le cose e poi con la foto grazie 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 grazie